Buongiorno a tutti intanto, l'altra volta abbiamo fatto un po' le corse perché i tempi erano contingentati ma prima di partire così volevo sapere se di quello detto l'altra volta ci sono altre domande in questi giorni che vi sono venute a mente. Bene, allora l'altra volta siamo partiti e eravamo arrivati abbastanza avanti nel discorso dei centri di oscillazione però c'erano ancora delle cose che mancavano per quanto riguarda, vediamo se riesco a condividere lo screen per quanto riguarda, vedete qualcosa voi? Male? Ok. Scusami poi dico solo agli altri di chiudere i microfoni e di riattivarli solo quando devono parlare. Avamo appunto parlato dei vari studi diciamo e anche dei vari autori che avevano poi portato a definire i centri di oscillazione avevamo parlato appunto della storia da Guy che aveva parlato dei centri di rotazione sia verticali e i centri di oscillazione sia mesiali avevamo parlato appunto delle limitazioni di questa visione che comunque è stata anche condivisa da altri autori tipo Capungy e Davis, d'accordo? Alcune delle carenze che erano venute alla luce riguardavano il fatto che le facette articolari non sono mai nettamente così regolari diciamo o non hanno mai una singola forma o una linea di forma diciamo, no? Un altro dei problemi era riguardante il fatto che le facette articolari non agiscono diciamo da sole nello meccanismo dell'oscillazione ma ci sono tante altre strutture che interagiscono e vanno a diciamo cooperare nella regolazione del meccanismo di oscillazione e poi vedremo anche quali sono questi fattori La visione appunto principale di Guy, di Davis, di Capungy era una visione monosegmentale invece abbiamo visto poi che la colonna vertebrale è da considerarsi come diceva Little John un animate beam, cioè una struttura, una trave animata, un meccanismo animato e nel quale appunto gli individui, inteso come soggetti singoli, le vertebre, sono coordinate l'una all'altra quindi queste diciamo limitazioni hanno portato poi anche alcuni autori tra cui Gray ad approfondire questo problema dei piani di oscillazione Gray ci ricordava appunto l'altra volta che aveva visto come da una approfondita valutazione delle faccette articolari si notava che non erano perfettamente piatte e neanche appartenevano a delle sfere oppure dei cilindri ma avevano più che altro, davano l'impressione di una forma ovoidale o anche chiamata forma ellissoidale e questo è un problema che poi Gray ha cercato di spiegare in molte caratteristiche del suo lavoro e tra le cose che Gray aveva notato era che una delle caratteristiche principali di queste superfici voidali non possono essere considerate quindi come una serie di cerchi fini a se stessi ma bensì come una serie di cerchi a raggio variabile Gray diciamo quotando anche altri autori aveva anche notato che addirittura le faccette sinistra e destra non avevano un comune centro di oscillazione tutto questo per dire che il definire esattamente la funzione oscillatoria dei segmenti vertebrali non è così facile non è così semplicistico ridurre non è funzionale questa riduzione semplicistica ad un unico asse di rotazione per esempio dipende anche molto dalla posizione in cui noi consideriamo la colonna vertebrale per esempio per quanto riguarda la colonna dorsale consideriamo la colonna dorsale se noi la portiamo in estensione quindi andiamo oltre la sua capacità di andare contro la sua fisiologica attitudine a stare in tifosi ma andiamo in estensione gli assi di movimento si trovano a questo punto posteriormente ai processi articolari ma quando invece noi poniamo la colonna dorsale in neutralità o addirittura andiamo nella sua curva fisiologica questi centri di movimento, questi centri di rotazione si muovono in avanti e quindi anche questo è un problema da tenere in considerazione nella posizione in cui noi teniamo il paziente e andiamo a indurre l'oscillazione ecco perché poi ci aiutiamo molto con dei sostegni delle spinte per andare a normalizzare o a influenzare la relativa cifosi, lordosi o il passaggio tra le varie curve fisiologiche della colonna ecco ci sono altri fattori per farvi ancora più chiarezza dobbiamo parlare per esempio del cambiamento della tensione legamentosa che avviene nelle varie posizioni e durante l'oscillazione stessa e poi lo vedremo più in dettaglio quando parleremo dei movimenti delle vertebre lombare durante la flessione e l'estensione di Philip Wilds che è un autore qua l'altro punto da espandere è quello appunto che le faccette articolari non agiscono da sole abbiamo quindi le faccette abbiamo detto che assieme alla loro cartilagine ialina e alla membrana sinoviale che è fluidica sappiamo giocano un ruolo tenendo conto anche della presenza di associati innervazione e vascularizzazione abbiamo parlato già del fatto che abbiamo anche la capsule articolare e i ligamenti includendo il disco intervertebrale abbiamo visto come il disco intervertebrale nella dinamica dell'oscillazione e nel trasferire i movimenti oscillatori da una vertebra all'altra e da un gruppo a un altro di vertebre agisce come una ruota equilibratrice vi ricordate? appunto cosa equilibria? equilibria i movimenti rotazionali anche qui abbiamo una ricca vascularizzazione una ricca innervazione abbiamo una serie di recettori nervosi di notevole varietà e entità che analizzano chiaramente la localizzazione la deformazione, la tensione la velocità di movimento delle articolazioni stesse dobbiamo considerare i muscoli anche con la loro tensione i muscoli, con i loro tendini e questi danno al meccanismo articolare il senso muscolare diciamo proprio così tutte queste strutture sono intercorrelate e coordinate da diversi riflessi dobbiamo considerare che a questo punto quello che abbiamo detto l'altro giorno vi ricordate a proposito della capacità diciamo delle faccete articolari e di definire soprattutto per quanto riguarda i movimenti la parte più grossolana del movimento mentre la parte più fine del movimento è definita maggiormente dalla struttura capsulo-legamentosa quindi ecco perché Little John poneva molta attenzione nella struttura legamentosa e anche nell'evoluzione diciamo cronica della qualità della struttura legamentosa stessa ed è proprio qua che noi capiamo da dove deriva la lesione osteopatica quello che Little John aveva sempre definito essere una delle capacità diciamo legamentose di limitare o addirittura inibire completamente il movimento tra le vertebre stesse dobbiamo considerare anche che questi legamenti servono come delle strutture legamentose appunto delle bande elastiche molto forti che legano vertebre vicine a loro ma abbiamo diverse caratteristiche legamentose che non sono solo relative al fatto e qua vi porto a porre attenzione a legare vertebre adiacenti abbiamo strutture legamentose diciamo e soprattutto quelle esterne no che legano diversi livelli vertebrali e qui è dove noi abbiamo la relazione e la capacità di trasmissione del meccanismo oscillatorio a distretti adiacenti attraverso queste connessioni non solo da segmento a segmento ma plurisegmentali e qui l'azione dice Little John è quella similare a quella che avviene al cuore per quanto riguarda l'attività che un soggetto sta tenendo sta camminando sta dormendo è rilassato sta facendo altre cose i legamenti permettono la varietà di movimenti tra le vertebre ma limitano diciamo la ampiezza dei movimenti stessi qui è dove lui porta una delle relazioni tra fa un'assonanza tra le relazioni viscero strutturali viscero struttura viscera diciamo dobbiamo considerare che questi questa colonna questa struttura che è composta di più segmenti e la funziona e ha delle assonanze diciamo con la contrazione e la dilatazione di questi legamenti comuni con la contrazione e la rilassamento o dilatazione dei muscoli nella stessa area ma anche con la contrazione e la dilatazione dei vasi sanguini e queste tre forze Little John le considera come cooperative nel senso della ritmicità e questo comporta il mantenimento dell'integrità delle strutture della colonna ad un ritmo normale e queste sono le tre forze legamentose muscolari e vascolari che operano e cooperano il lato del ritmo della colonna che vanno a costruire a contraddistinguere il lato della ritmicità della colonna il ritmo con il quale noi siamo molto spesso se non sempre ingaggiati a lavorare a cooperare a migliorare e chiaramente prima di tutto a diagnosticare quindi non possiamo considerare diciamo che questo sia un approccio puramente segmentale la colonna funziona come una struttura animata e sappiamo anche che la struttura animata nel suo insieme è molto più della somma delle sue parti individuali quindi se possiamo dare un concetto è quello della magnificazione della integrità del concetto di integrità della colonna più che dello studio analitico della colonna e dell'applicazione analitica della colonna a questo punto dobbiamo considerare anche uno degli aspetti che ci suggerisce Campbell è appunto avendo a mente questi concetti di considerare che lo studio di questi aspetti è molto importante come stiamo facendo noi ma ci consiglia e ci porta a considerare che è l'esperienza clinica che consente di apprezzare queste caratteristiche di integrazione la capacità della colonna di lavorare come un meccanismo integrato si apprezza in clinica è chiaro che quando lui parla di questo si riferisce al fatto di poter lavorare in clinica con una persona di aiuto con una persona esperta che possa far apprezzare all'allievo appunto queste caratteristiche globali della colonna che studiate in maniera così assettica sul testo non è sufficiente per non dà la sufficienza per poterle apprezzare dobbiamo considerare anche queste dobbiamo considerare anche queste centri di oscillazione in relazione a quello che Friat ha definito come i movimenti fisiologici della colonna noi sappiamo che Friat così somalizzando in maniera molto veloce parla di movimenti di flessione latroflessione e rotazione per quanto riguarda le posizioni in neutralità mentre estensione rotazione e latroflessione per quando per tutti gli altri movimenti che avvengono al di fuori della easy flexion che lui appunto chiamava così la condizione di neutralità sappiamo che per esempio in estensione rotazione latroflessione i corpi vertebrali ruotano verso la concavità mentre i processi spinosi si muovono verso la convessità della curva a un certo punto fa sì che questo che appunto i processi spinosi siano più lontani dalla linea centrale di gravità rispetto ai corpi vertebrali e questo è dovuto alla composizione della sequenza delle parti o dei pezzi di movimento messi assieme quindi questo implica che l'asse di movimento è più vicino alla parte anteriore dei corpi vertebrali questo in estensione rotazione latroflessione rispetto alla punta dei processi spinosi se invece consideriamo la condizione opposta cioè le lesioni o i movimenti in flessione latroflessione rotazione troviamo l'opposto troviamo cioè i centri assiali di rotazione si spostano posteriormente rispetto ai corpi vertebrali anche qui cosa vuol dire vuol dire che anche in queste condizioni i centri di oscillazione non vanno considerati come punti fissi ma vanno considerati come punti che hanno una grande variabilità di posizionamento in relazione alla posizione ma anche i movimenti fisiologici o non fisiologici della colonna quindi questo indica per i movimenti composti che non esiste un asse semplice di movimento e questo è stato detto prima anche per quanto riguarda i movimenti di flessione estensione attorno all'asse mesiale questo ci porta a considerare che la conformazione ovoidale delle faccette non può essere diciamo considerata affine a un semplice movimento assiale si deve portare in considerazione di alcuni movimenti che sono più complessi e sono i movimenti che Campbell chiama spin glide e roll cioè spin intende rotazione assiale spin la spinning glide scivolamento no e roll è una rotazione un rotolamento che avviene associando praticamente una rotazione a uno scivolamento ecco ecco possiamo anche quindi dire che è necessario avere un concetto di centro di oscillazione un po' più ampio diciamo no rispetto sì potresti ripetere il primo che hai detto glide roll spin spin grazie ok e qui citiamo Little John Little John viene appunto a definire i centri di oscillazione in che modo dopo aver considerato tutti questi aspetti i più semplicistici di Guy Davis no e quelli un pochino più complessi the grace no quindi il significato quindi degli assi di rotazione che si deduce dallo studio solo delle faccette ha soltanto una utilità potenziale nel funzionare per aumentare controbilanciare o inibire i movimenti fisiologici della colonna quindi è soltanto un aspetto potenziale perché dice qua sottointende che bisogna aggiungere molti altri elementi per considerare bene questi centri di rotazione e quindi arriviamo a una definizione un pochino più sensata diciamo dei centri di rotazione ed è questa sono dei punti fermi quindi sono dei still point dai quali tutti i movimenti nella colonna normale sono iniziati e quindi quando un movimento particolare o una sequenza di movimento è cominciata agiscono come un centro di energia che controllano aumentano controbilanciano o inibiscono i movimenti che sono necessari appunto che sono necessari per mantenere l'integrità e la salute della colonna stessa e qui abbiamo associato già e non andiamo a ripetere adesso il concetto della risonanza il concetto fisico della risonanza e facciamo solo un esempio se abbiamo un diapason diciamo e lo prendiamo fino a un altro diapason e abbiamo una vibrazione nel primo diapason pian piano il secondo diapason risuonerà in simpatia con il primo prenderà quel ritmo questo è un principio di risonanza che è stato studiato in fisica e che ben si sposa ai centri di oscillazione quindi se questo è vero allora avremo che un movimento oscillatorio qui è molto importante perché qui è dove andiamo a fare anche degli errori nella nostra clinica se avremo che un movimento oscillatorio ad una certa frequenza e una certa ampiezza è appunto in risonanza si dice con quella particolare vertebra questo lo aiuterà quel segmento a ristorare il suo centro di oscillazione lo ripeto quindi se noi applichiamo uno stimolo che è ad una frequenza e ad un'ampiezza che è in risonanza con le necessità l'aiuterà a ristorare diciamo il suo normale centro di oscillazione quindi i movimenti oscillatori di quella vertebra se questa procedura è portata poi in un numero di vertebra diacenti in una ritmica successione allora avremo una buona attività coordinativa ma allo stesso vale anche il rovescio della medaglia se noi applichiamo un'oscillazione che è eccessiva o un'ampiezza non sufficiente a coinvolgere a determinare un principio fisico di risonanza in quella vertebra specifica non avremo assolutamente nessun effetto o altresì avremo degli effetti diciamo di irritazione d'accordo? Ecco questa è una cosa molto importante visto che la colonna è costituita da archi e linee e curve che si diciamo approssimano una dopo l'altra e l'integrità di queste curve di questi archi è di fondamentale importanza per la salute e il funzionamento della colonna su insieme e dei centri di oscillazione questi centri appunto devono essere posizionati in maniera tale da gestire e governare la funzione di questi archi allora una delle funzioni di questi archi è proprio quella di mantenere scusate di centro di oscillazione e di mantenere gli archi e le linee curve nella loro migliore conformazione possibile questo ci porta a differenziare appunto e cercare di equilibrare da due diverse estremità che sono una integrità o rigidità della colonna e dall'altra una eccessiva mobilità come abbiamo già visto l'altro giorno e questo equilibrio da cosa viene mantenuto? Dalla posizione dalla correzione della posizione della funzione dei centri di oscillazione quindi i centri di oscillazione ci danno accesso alla meccanica della colonna ma non solo abbiamo visto anche la loro relazione fisiologica quindi è ovviamente un trade union un trade union tra l'aspetto meccanico e la preservazione della funzione meccanica che abbiamo visto essere insita nella buona organizzazione degli archi e questo l'abbiamo definito altre volte parlando a proposito degli archi funzionali degli archi fisiologici del double arch e degli archi strutturali quindi tutte queste cognizioni devono essere ben presenti durante il nostro approccio clinico a mente perché quando andiamo a creare a dare oscillazione dobbiamo nella scorrere con la mano valutare l'integrità di questi archi e valutare all'interno di questi archi la funzione dei centri di oscillazione non so se sono riuscito a rendere il punto se qualche domanda su questo qualche dubbio volevo chiederti Paul cioè dal punto di vista pratico quando tu dici che cioè una delle funzioni una delle funzioni dei centri di oscillazione di mantenere curve nella loro migliore condizione possibile cioè è dal punto di vista meccanico o dal punto di vista cioè non so dell'ossiliazione nel senso se se io in posizione prona ho una una lordosi importante e spesso abbiamo visto Chris mettere dei cuscini sotto per andare a per andare a posizionarla meglio è quel discorso lì oppure qualcos'altro ancora qualcosa di più i cuscini i sostegni li metti per disingaggiare le facette articolari e per mettere quindi l'oscillazione abbia senso se noi abbiamo un'iperdormosi un'ipercifosi estreme ma eccessive tu hai già di per sé delle aree che non oscilleranno ma non perché giusto non oscillano ricordiamoci sempre una cosa che i centri di oscillazione funzionano nel soggetto in movimento d'accordo la nostra la nostra assunzione è di porre un soggetto statico e usare in quella sgravamento dalla forza di gravità le risorse della colonna andando a stimolare diciamo la ripresa della funzione meccanica della colonna e quindi dobbiamo farlo nel rispetto migliore di quelle che sono le possibilità di movimento di una struttura che si muove in soggetti che sono in movimento ma noi la mettiamo ferma quindi questo è la prima dopo di che c'è molto di più c'è quello che appunto dicevo prima andare a cercare di una sorta di tutt'uno la riorganizzazione meccanica degli archi ma abbiamo visto le linee di forza essere coinvolte nei centri di oscillazione abbiamo visto la linea postero anteriore fino a C7 e la linea antero posteriore fino a C7 addirittura la linea postero anteriore per alcuni autori tra cui Campbell fino a D2 e quindi questa presenza delle linee la conformazione degli archi la attinenza per almeno due terzi dei pivot della colonna meccanici con i centri di oscillazione fa sì che ci sia questa stretta relazione nel riorganizzare i centri di oscillazione allo scopo di recuperare la meccanica della colonna sì ma quello che mi intendevo io cioè è fondamentale comunque mettere la colonna nella migliore situazione possibile affinché i centri di oscillazione abbiano questo effetto oppure sì assolutamente mettere la colonna in un ordine diciamo meccanicamente funzionale fa sì che tu possa sviluppare questa risonanza anche che se no non avverrebbe non potresti trasmettere il movimento verso verso segmenti sfruttando la tensione legamentosa l'integrità della tensione legamentosa e dei legamenti degli strati esterni dei legamenti d'accordo perfetto grazie ricordiamoci poi la funzione dei muscoli multifidi no i multifidi sono dei piccolissimi ma fortissimi muscoli ed è lì che viene registrata gran parte della lesione osteopatica la tensione dei multifidi che è quello che riguarda il senso muscolare dell'oscillazione dovuta a una lesione diciamo che si esprime in quel livello lì determina anch'essa oltre alla struttura legamentosa un impedimento della normale oscillazione ma qui dobbiamo e dove dobbiamo e quello che dice Campbell ci sono delle piccole differenze che fanno la differenza queste piccole differenze sono nell'oscillazione raccogliere le informazioni e saper discriminare se la mancanza di oscillazione o carenza di oscillazione è dovuta a un problema osteoarticolare cartilagineo per esempio è dovuta a una lesione diciamo chiamiamola di vecchio di vecchio stampo e quindi che ha come dice Little John creato quella cascata di problematiche croniche a livello legamentoso o se è invece una afferenza di tipo muscolare e quindi dal lato organico ed è quindi ecco il senso che dobbiamo sviluppare nell'andare a discriminare le differenze perché è molto importante abbiamo una problematica di tipo cronico dobbiamo impostare il trattamento su un certo tipo di durata sia temporale ma anche nel tempo quanto vedo un paziente se ho un problema molto più recente il tipo muscolare può essere molto più veloce dobbiamo capire e questo è uno degli strumenti diagnostici l'80% come diceva ieri Mervin dell'oscillazione è diagnostica l'80% dell'oscillazione ha valenza diagnostica abbiamo come dicevi tu e mi dai spunto tre centri o tre aree di influenza meccanica attraverso l'utilizzo dei centri di oscillazione le prime aree sono le linee anteroposteriori e posteroanteriori le linee di gravità sono responsabili di unificare la colonna in una struttura un animate beam come dice Little John una struttura una colonna una trave animata in cooperazione con cosa in cooperazione con il meccanismo pressorio delle cavità interne attenzione le linee lavorano in cooperazione con il meccanismo pressorio delle cavità interne e questo è consono con il movimento muscolare nei cingoli superiore e inferiore la relazione linee cavità movimento delle appendici linee cavità movimento delle appendici e quindi ecco che i centri di oscillazione e torniamo al punto devono essere posizionati in modo da garantire cosa una base una base affinché i movimenti vertebrali segmentali e di gruppo siano in armonia con cosa con la struttura animata la colonna vertebrale queste tre funzioni o aree di influenza devono trovarsi in una particolare e unica relazione tra di loro sì che era un po' il senso della mia domanda sì sì infatti per quello mi hai dato un bello spunto allora con tutte queste considerazioni che abbiamo fatto dove vogliamo arrivare vogliamo arrivare a dire questo che le linee di forza le linee gravitarie antero-posteriori e postero-anteriori per essere in armonia l'una con l'altra attenzione qua se questo è un assunto deve succedere che i centri di desiderazione siano posizionati lungo le linee stesse e questo ci dà particolar modo di espandere quella cosa che abbiamo detto le cose che abbiamo detto l'altro giorno a proposito della differenziazione che poi invece non è così netta tra le linee gravitarie e le linee di tensione perché le linee gravitarie e qua è un gioco un po' difficile di parole no? è un gioco un po' difficile di parole perché consideriamo le linee gravitarie le due linee antero-posteriori e postero-anteriori ma quando parliamo di centri di oscillazione parliamo di centri che sono posti sulle linee di tensione articolare d'accordo? e però in termini semplici queste linee di tensione articolare è un concetto non è facile definirlo adesso in maniera totale però in termini semplici queste linee di tensione articolare seguono la linea antero-posteriore no? soprattutto per quanto riguarda il tratto c7 d8 e d10 al sacro e invece seguono la linea postero-anteriore nel tratto c2 d2 e questo porta a quel famoso conflitto che abbiamo già espresso abbiamo già espresso altre volte no? e allora la funzione dei centri di oscillazione abbiamo diverse funzioni d'accordo? mantenere l'integrità degli archi spinali abbiamo appena fatto questo tipo di discorso insieme i centri alle linee lavorano per mantenere la colonna in una struttura animata garantire una protezione per i dischi intervertebrali d'accordo? abbiamo già detto il discorso di Vito John che parlava del disco come una struttura di equilibrio diciamo e quindi questi centri abbiamo detto che lavorano in risonanza e in armonia tra di loro e quindi non è possibile che un centro sia singolarmente in problemi e le altre siano apposta tutti i centri una volta che comincia il disturbo diciamo vengono influenzati quindi insieme con gli altri aspetti meccanici della colonna quindi gli archi le linee di gravità questi centri lavorano in congiunzione con i centri fisiologici della colonna spinale e che sono tra l'altro come noi conosciamo bene i centri meccanico fisiologici o anche centri osteopatici che sono di vitale importanza nella diagnosi e nel processo di trattamento ecco questo è un po' diciamo la chiusura se vogliamo ci sono poi tante altre cose si potrebbe dire ma insomma ne abbiamo già detto abbastanza mi sembra che poi mi dà modo di cominciare a parlare dei centri invece di dei centri osteopatici ci sono domande finora per quanto abbiamo detto ragazzi va bene come abbiamo visto quindi questi centri di oscillazione sono un trade union sono un link tra la parte diciamo meccanica le linee le curve gli archi e l'aspetto fisiologico della colonna e i centri osteopatici sono come sapete un argomento che non è molto usato non è molto conosciuto neanche e sinceramente non se ne capisce non se ne capisce il perché sono cose che vengono dal passato sono cose studiate dai pionieri dai tempi in cui Little John Steele McConnell soprattutto ma anche Friat sapete che Friat è stato allievo di Little John a Chicago dal 1901 al 1903 ma fu incaricato da Little John che gli dava tre quattro dissezioni all'anno del sistema nervoso da fare perché voleva che diventasse bravissimo diciamo nello studio e nella comprensione della funzione dei centri osteopatici quindi Little John stesso investì molto tempo e molte energie in questo era il link diciamo il link dell'osteopatia applicata strutturalmente alla corrispondente risvolto fisiologico insomma noi abbiamo diverse definizioni dei centri osteopatici per esempio uno dei primi a esprimersi in questo campo è stata Louisa Burns sapete che Louisa Burns fu curata da Steele e poi decise di fermarsi a Curseville e studiare e fu molto attiva nella ricerca determinare gli effetti della lesione osteopatica e quindi la sua prima definizione dice che praticamente i centri nervosi possono essere influenzati da impulsi sensoriali dalla pelle e dai tessuti subcutani come anche dai visceri e dalle superfici articolari quindi lei parla di questa area superficiale in stretta connessione centrale con ogni centro nervoso è stata chiamata centro osteopatica quindi si parla di un'area superficiale quindi la superficie del corpo che è diciamo in connessione centrale attraverso fasci chiaramente nervosi afferenti e deferenti con una serie di strutture e poi vedremo anche in che secondo che principio questa connessione è possibile altri studiosi diciamo che hanno parlato dei centri per esempio Tasker Dane Tasker parla di certi punti o aree sulla superficie corporea del corpo sono chiamati centri questa parola è diventata parte del vocabolario tecnico-steopatico pioneristico aggiungo io e comunque non ha significato proprio dei centri fisiologici i centri fisiologici infatti sono centri funzionali del sistema nervoso centrale dove viene governata l'azione di organi o altre strutture diciamo del corpo quindi un conto è un centro della superficie corporea e un conto è un centro fisiologico che è un centro del sistema nervoso centrale quindi ancora Tasker arriva a definire il centro osteopatico come quel punto della superficie del corpo che è stato dimostrato essere nella più stretta connessione centrale con un centro fisiologico quindi la connessione tra centro superficiale e centro fisiologico il centro cutaneo diciamo è quel centro che magnifica in qualche modo la capacità di afferire in superficie del mondo organico vi ricordate anche l'espressione di un altro che studiò approfonditamente la lesione osteopatica un certo Irving Kaur che parlava della lente di magnificenza come appunto noi potessimo attraverso la colonna in particolare la superficie della colonna andare a usarla come lente di ingrandimento del mondo neurovegetativo a questo punto dobbiamo dire che i centri osteopatici sono stati definiti anche da altri autori diciamo questi studi ci portano a considerare che alcune evidenze in fisiologia e patologia dimostrano che le impressioni infatti su elementi sensoriali della pelle oppure di membrane mucose oppure di muscoli o altre strutture sono trasportate ad un centro nel sistema nervoso centrale queste impressioni sono coordinate in questi centri e influenzano l'azione fisiologica di tutte le strutture innervate da quello stesso centro quindi quando parliamo di due o più strutture essere in stretta connessione intendiamo che sono innervate appunto dallo stesso segmento del sistema nervoso centrale quindi due strutture innervate dallo stesso segmento due strutture innervate dallo stesso segmento due o più perché possono essere anche molte per esempio noi conosciamo uno dei centri più bizzarri del concetto osteopatico se voi vi ricordate C2 che centro bizzarro è in osteopatia vi ricordate a cosa afferisce C2 utero è una cosa molto bizzarra non c'è nessuna connessione diciamo diretta tra l'utero C2 questo è poco ma sicuro però attraverso la circolazione generale l'influenza che ha C2 attraverso il ganglio cervicale superiore sulla distribuzione del sangue quindi a livello di sistema circolatorio generale ha una grossa influenza su un organo che in alcune fasi mensili ha la capacità di sequestrare una grandissima quantità di sangue ecco perché molto spesso in alcune fasi diciamo mensili troviamo delle ripercussioni su C2 ed è una delle aree che dobbiamo stare molto attenti a trattare specialmente nelle gravide perché non vogliamo un'improvvisa aumento repentino aumento di vaso motricità verso l'area uterina chiaramente in relazione alla fase della gravidanza allora abbiamo visto appunto questi autori che parlano di questi centri osteopatici e quindi noi possiamo capire da questo che da molti scrittori appunto molti autori ci suggeriscono in modo attraverso il trattamento osteopatico come questo trattamento possa essere diretto sui centri nervosi fisiologici fisiologici chiaramente questo generale concetto che possiamo anche dire però concetto filosofico se vogliamo è raccolto in cinque parti diciamo una è la legge di Hilton che dice che lo stesso nervo scusate lo stesso tronco nervoso scusate bene che innerva un'articolazione innerva anche la pelle che ricopre l'articolazione e i muscoli che muovono l'articolazione e inoltre a questo possiamo considerare questo principio applicabile anche ad altre parti del corpo per esempio le pareti intestinali e le strutture peritoneali associate e la pelle che sta sopra le strutture peritoneali associate sono tutte innervate dalla stesso segmento ecco come cominciamo a capire le relazioni diciamo tra il sistema nervoso centrale e le superfici o le parti profonde del corpo un altro autore importante è Head vi ricordate? noi conosciamo Head aspetta che lo troviamo ora abbiamo messo Head Henry Head era un famoso neurologo diciamo no? medico di Londra è nato nel 61 e lui studiò molto le relazioni e la somato sensibilità e una delle sue leggi più famose è la legge di Head che noi conosciamo è proprio è quella che dice appunto quando uno stimolo doloroso è applicato ad una zona o parte del corpo a più bassa sensibilità però che è in stretta connessione centrale con una parte o zona di più grande sensibilità allora il dolore prodotto è avvertito o sentito nella parte di più alta sensibilità piuttosto che in quella dove c'è la sensibilità più bassa possiamo anche dire che un adeguato stimolo applicato vicino ai gangli spinali per esempio dei segmenti nervosi ai quali lo stimolo doloroso viscerale è stato trasferito quindi via afferenziale sulla superficie del corpo appunto questo stimolo applicato in questa zona dei gangli spinali verrà apprezzato e usato per mitigare o ridurre la malattia stessa questo stimolo è stato anche chiamato in diversi modi noi lo chiamiamo inibizione ma può essere chiamato anche meccanismo della dispersione dell'irritazione eccetera Little John sottolinea cosa che la legge di Head si applica anche alla circolazione sanguigna qui è dove noi entriamo proprio nel nostro mondo più conosciuto e che in relazione alla legge di Hilton tutti gli organi del corpo sono nella stessa situazione condizione delle articolazioni quindi espande diciamo queste leggi le applica all'intero organismo e questo amplifica di fatto l'applicazione dei concetti sopraesposti quindi un'influenza sia inibitoria o stimolatoria d'accordo ragazzi tenderà abbiamo appena parlato di questi stimoli tenderà a percorrere diciamo a viaggiare lungo quello che è un concetto che è il percorso di minore esistenza questo è importante perché diciamo abbiamo visto prima che ogni centro è in relazione con diverse strutture 3 4 5 a diverse distanze del corpo a diverse profondità nel corpo con diverse anche tipologie istologico e funzionale ad esempio se parliamo del secondo segmento dorsale in congiunzione con i loro segmenti vicini lui va a rifornire le fibre vasocostrittorie degli occhi ma sappiamo sappiamo anche che fa la stessa cosa alle fibre vasocostrittrici della parotide e delle ghiandole sublinguali e submandibolari ma fornisce anche stimoli vasomotori ai vasi della testa e anche agli arti superiori e anche alle strutture e anche ha una funzione dilatatoria per quanto riguarda le coronarie del cuore quindi una miriade dalla superficie alla profondità e quindi ogni stimolo diretto da questo segmento ha un veramente un ampio un'ampia gamma di effetti e quindi la logica qual è? Dobbiamo considerare che noi applicando uno stimolo di qualsiasi natura in questo segmento qua non andiamo a influenzare tutte le strutture ma che strutture andremo a influenzare? Andremo a influenzare quelle strutture che sono appunto in un percorso di minore esistenza adesso spieghiamo meglio cosa vuol dire siccome sappiamo che la tendenza del corpo è verso l'omeostasi di mantenere un ritmo naturale se un organo è in salute diciamo sta bene no? qualsiasi trattamento diretto verso quest'organo andrà disperso cioè se io tratto D2 e la funzionalità delle coronarie è ottimale per l'organo cuore la coronaria difficilmente andrà a raccogliere gli stimoli che io vado a produrre lavorando su D2 faccio un esempio molto terra terra ragazzi questa è una regola generale a meno che il trattamento non sia inappropriato o sia eccessivo o eccessivamente forte a quel punto lì può andare anche a abbattere la diga della resistenza organica diciamo dell'omeostasi e quindi andare a creare di per sé un'irritazione ma mi piacerebbe anche vedere cosa ne dice Little John di questo percorso di minore esistenza che ha sempre delle parole molto chiare lui dice un'altra questione che dobbiamo sollevare è quella della cos'è che determina la distribuzione dell'impulso dopo dell'impulso dopo il trattamento è stata stesa una legge è stata dichiarata una legge quella del percorso del percorso di minore esistenza che appunto implica che il trattamento passerà sempre lungo questo percorso di minore esistenza se chiaramente il corpo è assolutamente normale tutti i percorsi diciamo che da un da un'area del corpo trattata vanno a influenzare le varie strutture che abbiamo visto prima lo stimolo si distribuirà in maniera diciamo normale e troverà una sua resistenza organica data dall'omeostasi diciamo ma se una parte del corpo è anormale cioè non funziona bene allora in quel punto lì verrà distribuito l'impulso in maniera più significativa se vogliamo perché la natura diciamo raccoglie quello che gli serve dal trattamento quindi la condizione lesionata o disturbata dell'organo della struttura o della funzione tenderà a far suo lo stimolo cercando di recuperare l'aspetto dell'omeostasi per esempio lui dice e quindi da qui noi possiamo dire che qualsiasi trattamento darà un qualche tipo di effetto al corpo ma aggiunge anche questo non è assolutamente vero non è sempre vero perché se il corpo è assolutamente normale il trattamento per esempio dei centri del cuore non andranno a stimolare o inibire il cuore stesso solo se c'è una tendenza anche leggera a una certa anomalia funzionale allora il trattamento andrà a modificare l'azione cardia quindi questo è importante perché molto spesso noi lavoriamo con delle strutture appunto non sapendo benissimo la condizione il numero di relazioni ma valutando l'effetto di trattamento immediatamente o a distanza possiamo anche andare a fare un esercizio didattico cioè a capire ricollegandolo all'anamnesi questo è soprattutto un esercizio per noi che ancora non siamo così magari tanto espertissimi come i nostri grandi maestri inglesi ma per andare a capire collegandolo con l'anamnesi e con la presentazione clinica del paziente e con la diagnosi osteopatica che abbiamo fatto a capire e cominciare a crearsi mentalmente una sorta di modelli su cui poi andare a sviluppare la pratica sui pazienti successivi questo è molto importante come esercizio una delle cose che ci ricorda sempre Campbell è che osteopatia chiede una grande ripetizione 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 anche John Werner ci ripeteva spesso la ripetitività del trattamento to coax persuadere con il trattamento ripetitivo non cercare di cambiare in maniera istantanea ma persuadere immagazzinare dati Paul posso chiederti al di là del fatto che ad esempio in acuto viene spesso consigliato di fare trattamenti brevi rispetto alla condizione in cui il problema è più cronico ma Little John riporta qualche indicazione sul capire quando un trattamento può essere un sovradosaggio cioè da qualche indicazione particolare o Campbell o Tensum beh sì questo lo vediamo abbiamo visto in molte autori Campbell anche Chris Batten la la stimolazione soprattutto simpatica diciamo no soprattutto per quanto riguarda la funzione sudomotoria la funzione sudomotoria ne parlava anche ieri Mervyn Mervyn ne parlava ieri in diretta parlando del trattamento per la polmonite no the sudomotor change il cambiamento dell'attività sudomotoria è il primo indice uno dei primi indici di irritazione del sistema nervoso simpatico quindi ancora una volta è la qualità della pelle l'umidità della pelle la sudorazione della pelle ci dà indicazioni o anche quello che diceva Hendrick o quello che diceva Hendrick sul sistema quando ci faceva non ci ha fatto la lezione sul sistema linfatico sì fatto di tenere sempre controllata la fronte la temperatura sudore parlava della temperatura sì sì la temperatura è strettamente associata con la funzione sudomotoria quando tu cominci a scaldare l'organismo cominci a sudare quindi sono tutti la temperatura l'arrossamento la sudorazione anche il cambiamento del tono del paziente il cambiamento del tono della pelle per esempio tutti i fenomeni che raccogli in maniera abbastanza istantanea ma sono quelle piccole differenze che fanno la differenza più avanti in questa lezione si parla anche di inibizione e stimolazione e viene spiegato bene come stimolare attraverso le fasi successive di inibizione e stimolazione ok allora scusa posso sono Matteo posso chiedere una cosa o do alla fine quando vuoi allora rispetto a questo che hai detto della legge di Heed della least resistance e mi viene in mente ma non so se è corretto l'immagine dei vasi comunicanti che disegnava sempre Chris Campbell e Chris Button e mi viene in mente è possibile che il discorso che faceva Mr. Campbell rispetto al fatto di trattare una zona più facile da trattare per andare ad interagire con una più difficile non abbia anche un significato di questo tipo cioè nel senso riempio il vaso vuoto che è più facile da riempire invece che andare a svuotare quello pieno quindi dal punto di vista nervoso utilizzo una parte meno sensibile per riequilibrare tutti i vasi della colonna non lo so sinceramente non lo so cosa se si può nel senso che lui lo metteva su da un punto di vista meccanico cioè utilizzo una parte che si muove di più per andare ad interagire con una più bloccata giusto? Sì 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 questo lui parlava dell'ampicazione però magari questo potrebbe potrebbe essere spiegabile con questo concetto qua cioè senza andare su una zona iperreattiva vado prima su una meno reattiva in modo da riequilibrare l'immagine dei vasi comunicanti è vero anche il contrario parla parla che non ho capito aspetta mi sentite? sì c'è una comunicazione che mi va a migliare quindi è vero anche il contrario della legge è vero anche il contrario della legge certo è vero anche il contrario la legge è reversibile la legge di Head è reversibile assolutamente ok guarda che è il computer che si sta scaricando ti avviso grazie a questo punto altre cose da dire sono a riguardo ad alcuni concetti che questi centri osteopatici non devono essere intesi come dei bottoni da spingere e risolviamo il problema ci sono certi bottoni da toccare che producono risultati chiamate cure molti ci credono ma questo è una cosa fallace come credenza diciamo quindi non dobbiamo pensare che siano così semplici da approcciare non ci sono bottoni e ogni trattamento diretto a un organo in specifico deve essere fatto in maniera tale da poter essere accettato dall'organo d'accordo non possiamo trattare isolatamente qui viene uno dei grandi quotazioni di Rito John nessun organo sta isolato nel corpo umano quindi non c'è malattia organica e non c'è trattamento organico in maniera isolata e lui lo riporta anche a livello più infinitesimale dicendo che anche le cellule non sono isolate l'organo è una comunità di cellule un commonwealth guardate quindi attenzione ho visto ieri un filmato di quello in televisione quell'osteopata che ha trattato la cervicale questo avete visto ho male alla cervicale tratto la cervicale ho male alla dorsale tratto la dorsale cioè non è questo il messaggio dell'osteopatia che i nostri predecessori si sono molto prodigati per passare questo deve essere fatto appunto come una sorta di ristorazione meccanica fisiologica attraverso il recupero ritmico non solo all'interno dell'organo ma anche all'interno e di tutto il resto del corpo quindi applichiamo un trattamento anatomico strutturale e tramite la meccanica quindi noi usiamo la meccanica come tre di unione tra la parte anatomica strutturale la usiamo per cosa? per avere un corrispettivo risultato fisiologico John Werner sempre ci diceva che tra l'anatomia e la fisiologia ci sta la meccanica d'accordo? quindi ci sono sono stati divisi questi centri e c'è un motivo ben preciso ecco un motivo avete tempo perché sono le 5 e 5 5 e 10 perché qui c'è ancora un po' da parlare sia per quanto riguarda la suddivisione dei centri o volete fare qualche discussione e riprendere più avanti magari ditemi voi per me è bene continuare anche per me è meglio continuare sì allora i centri sono stati divisi in sensoriali no? perché Little John diciamo porta l'attenzione sul fatto che quasi tutti i disturbi se non tutti cominciano dal lato sensoriale any disease is sensory quindi dice lui la così e quindi la lesione primaria è funzionalmente sensoriale tutte le malattie cominciano quasi tutte le malattie dal lato sensoriale e quindi ecco perché il trattamento inibitorio è chiamato in causa per trattare le condizioni le condizioni abnormali sensoriali che sono all'origine diciamo della disintegrazione dei fenomeni riflessi attraverso poi tutta l'integrazione e l'arco riflesso stesso ok quindi la linea del trattamento è sicuramente attraverso l'inibizione palliativa per scopi palliativi perché qui lo facciamo noi ed ecco dov'è l'importanza dell'ostopatia io dico classica è andare a prevenire abortire abortire anzi prima che prevenire abortire la condizione prima che diventi stabilizzata prima che si stabilisca si realizza ok quindi le aree sensoriali registrano rappresentano i differenti organi registrati nella colonna ok quindi avremo dei punti dove ci saranno delle contratture muscolari che dovranno essere rilassati attraverso delle attività inibitori inoltre i centri sono stati divisi in centri motori includendo anche i secreto motori eh secreto motori che hanno a che fare con la funzionalità dei viscere inoltre abbiamo i centri vaso-motori questi centri sono connessi con il controllo e la coordinazione e la distribuzione del sangue e nelle varie parti del corpo chiaramente comprendono anche i vasi linfatici la distribuzione linfatica e lito John cosa dice di questi centri vaso-motori che che l'attività vaso-motori e il sistema vaso-motori rappresenta un ciclo di attività e quindi abbiamo dal lato della costrizione una continua diminuzione del calibro dei vasi d'accordo in connessione con la vaso-tonicità e subordinato a questo abbiamo anche la tonicità dei tessuti che vengono riforniti dal punto di vista invece vaso-dilatatorio abbiamo un aumento costante della dimensione dei calibri della dimensione del calibro dell'arteriole e conseguentemente variazioni nella tonicità del vaso stesso e dei tessuti che vengono riformiti quindi questo significa attenzione questo è importante che la dilatazione è il key point la chiave la chiave di vettura è la dilatazione ed è importante soprattutto per le influenze meccaniche di tipo sensoriale chiaramente e specialmente diciamo quelle che avvengono attraverso il decimo nervo cranico e il nervo depressore il depressor nerve vi ricordate il concetto del depressor nerve questo meriterebbe chiaramente una lezione di per sé il depressor nerve chi si ricorda qualcosa del depressor nerve anche definito oggigiorno nervo aortico o nervo depressore cardiovagale oppure anche nervo di Ludwig ok questo meriterebbe una lezione a sé perché il concetto e il meccanismo del depressor nerve è una delle cose più fenomenali che abbiamo in ostipatia per le condizioni di emergenza anche ok abbiamo inoltre i centri collettivi d'accordo i centri collettivi cosa raccolgono vi ricordate cosa raccolgono cosa rappresentano i centri collettivi sono l'insieme dei centri sensoriali e visceromotori centri sensoriali e visceromotori perché sono centri che governano le funzioni e registrano le sensazioni in un numero relato di organi tra di loro e vediamo anche l'importanza di avere questi tipi di centri per esempio l'ottavo e il nono segmento dorsale rappresentano il centro per il brivido perché questo brivido origina diciamo dalla milza essendo temporaneamente o cronicamente allargata l'allargamento della milza causa impulsi irritativi che passano alla colonna e quindi da qui ad altri organi quindi per curare questi brividi che derivano dalla milza allargata il trattamento deve essere dato per ridurre chiaramente l'allargamento della milza che viene chiamato anche trattamento inibitorio seguito da un trattamento ritmico ricordate il trattamento organico di Little John che ci ha anche detto spiegato bene Campbell attraverso inibizione trattamento ritmico o anche trattamento vibratorio ricordate e quindi questo trattamento trattamento ritmico della parte sinistra della colonna a livello dell'ottava della nonna dorsale e cos'è questo trattamento ritmico chi si ricorda cos'è trattamento ritmico come si applica un trattamento ritmico ricordate il trattamento ritmico il trattamento ritmico consiste in una serie continua di prima stimolazione seguita da inibizione e così in serie e così in serie stimolazione e inibizione allora questa divisione dei centri osteopatici in quattro classi non è puramente didattica cioè non è fatta li dividiamo così così li studiamo meglio ma ha delle considerazioni pratiche molto importanti per esempio se guardiamo i centri uterini no per quanto riguarda i centri dei riflessi sensoriali e motori uterini è possibile trattare selettivamente per diminuire il dolore senza interferire con la funzione visceromotoria dell'utero durante il travaglio per esempio quindi ci permette di lavorare selettivamente su un aspetto per esempio il dolore ma senza andare a disturbare la parte motoria questo è molto importante questo è un punto importante che anche Little John sapete che i tempi di Little John di Steele il lavoro ostetrico era quotidiano quindi loro hanno veramente tanti appunti sulla sul parto sulla preparazione e sulla espletamento del parto distinguiamo tra punti che rappresentano dolore quindi dice Little John e punti che sono invece rappresentano delle contrazioni supponiamo di avere un dolore che il nostro medico vorrebbe mitigare con degli anestetici morfina cloroformio cose che si usavano al tempo chiaramente questo non dovrebbe essere fatto dice lui perché possiamo applicare il trattamento osteopatico con una forte inibizione dalla quinta lombare giù per tutto il sacro perché perché questo perché questo rappresentano i centri dei impulsi sensoriari che cominciano sempre dalla cervice uterina quindi dalla quinta lombare supponiamo però di voler stimolare o inibire con il dolore diciamo la contrazione uterina quindi non la cervice e questo sarebbe possibile farlo dalla decima dorsale fino alla prima lombare ora supponiamo che volete stimolare la contrazione dell'utero perché volete favorire il processo del parto la stimolazione dovrebbe prendere posto dalla decima dorsale alla prima lombare ma non sotto la prima lombare perché perché dalla seconda alla terza abbiamo i centri del parto in connessione con i centri motori quindi la cervice dell'utero è rappresentata dalla quinta lombare alla tutta la zona sacrale questa regione è usata per l'applicazione di due tipi di trattamento uno per produrre la dilatazione della cervice nei casi estetici quindi trattiamo verso il basso in quest'area dando una forte stimolazione poi vediamo come si fa a dare una forte stimolazione due nel caso invece in cui abbiamo minaccia di aborto dobbiamo inibire fortemente nella stessa area ma in questo caso verso l'alto quindi qui ancora abbiamo un altro grande esempio di direzioni del trattamento verso il basso verso l'alto favorire un processo di uscita eliminazione favorire un processo di mantenimento di contrazione avete capito questo è il senso del trattamento in questi casi qua in questi casi qua in cui parliamo del trattamento ostetrico applicato alla partoriente e molti osteopati in Inghilterra io ho sentito diversi non solo Chris Batten ma anche Robert Cartwright o anche le ragazze si sono aiutate e hanno partorito in casa molti di loro utilizzando proprio questo tipo di conoscenze diciamo aiutandosi nel processo del parto con il trattamento osteopatico in questi casi il trattamento è un trattamento specifico ma con le caratteristiche di specificità che dicevamo l'altra volta specifico vuol dire che è applicato in quel caso in quel momento non con un trattamento locale d'accordo? e quindi in questo caso qua non vogliamo dare un trattamento body adjustment diciamo perché dice Little John questo fomenterebbe la circolazione e interferirebbe con le condizioni che è in essere ecco come un po' per il discorso fatto per la C2 non vogliamo fomentare la circolazione che potrebbe in caso di minaccia di aborto accelerare il processo addirittura allora come si applica inibizione e stimolazione intanzitutto dobbiamo dire che queste tecniche ma anche i concetti relativi al trattamento dei centri osteopatici devono essere fatti nel contesto del body adjustment non come tecniche non come tecniche isolate Little John parla appunto di questo processo di stimolazione inibizione in maniera da aiutare il sistema a trovare una sua diciamo appunto percorso di minore resistenza sposando appunto i concetti di alternare la stimolazione e l'inibizione in cicli ripetuti per attivare ogni centro cominciate dice lui producendo inibizione lasciando che l'inibizione continua lasciando questa inibizione continuando con l'inibizione fino al punto della stimolazione forse forse vi ricordate quei grafici che abbiamo già visto della tempo e applicazione della pressione come appunto i fenomeni di stimolazione e inibizione pian piano pian piano si susseguano e dice lui arrivati al punto della stimolazione continuare finché il ciclo di nuovo si porta nella inibizione e di nuovo la stimolazione e questo diciamo ciclo si dovrà interrompere nel centro in cui lo applicate al punto richiesto se il centro deve essere stimolato verrà appunto interrotto al massimo della stimolazione dopo alcuni cicli altrimenti dovrà essere lasciato al massimo dell'inibizione dopo alcuni cicli e qua anche come diceva John Wernham i tessuti il cambiamento dei tessuti ci dicono cosa stiamo facendo e quanto dobbiamo andare avanti o servono di fermarci non c'è una regola generale dobbiamo apprezzare il cambiamento tessutale sopra le nostre mani in questo l'attenzione e il timing è di importanza vitale deve essere questo dice lui guadagnata come abilità con una con una certa pratica e sotto la guida di un operatore esperto perché non è soltanto dice lui applicare appunto queste queste cose in maniera statica ma c'è una procedura abbastanza insomma da allenarsi a farla qualche domanda ragazzi tutto chiaro voglio due domande allora una è quello che dicevi prima quando parlavi di stimolare la contrazione dell'utero per favorire del parto dicevi stimolazione dalla D10 a L1 ma non sotto perché abbiamo i centri del parto sì sì due 2D e 3D abbiamo abbiamo i centri del parto abbiamo micturition parturition and defecation abbiamo tre centri molto importanti quindi per assistere il processo del parto vogliamo diciamo lavorare sulla stimolazione e l'assistenza della contrazione uterina ma magari dice lui non vogliamo ancora avviare il parto vogliamo preparare il sistema ecco si dà delle aree di distinzione qui chiaramente ragazzi fa parte anche un po' della pratica di questi estiopati che lavoravano tutti i giorni in questo ambiente ospedaliero e riuscivano quindi ad essere molto più precisi e a differenziare le aree in maniera molto specifica e l'altra domanda era sul discorso che abbiamo fatto cioè se noi volessimo inibire una zona possiamo ad esempio fare una leggera trazione sottocipitale e aspettare più cicli inibitori trazione non so inibizione più compressione no ma compressione attraverso perché noi andiamo ricordatevi che l'inibizione e la stimolazione vengono portate sulla catena paravertebrale ma anche sui muscoli sottonucali qui tra il piccolo obliquo il grande obliquo il retto laterale tutta la muscolatura che lega la base del cranio alla prima seconda vertebra cervicale perché abbiamo in queste strutture l'espressione diciamo delle ramificazioni dorsale in particolare la radice dorsale media dei rami del simpatico di conseguenza noi andando andando a inibire queste aree qui usate dei rami del simpatico dei rami dorsali dei nervi intercostali e dei nervi chiaramente che decorono poi sulla superficie della colonna vertebrale ma anche di tutti i nervi delle prima seconda i rami dorsali della prima seconda vertebra cervicale e i primi segmenti cervicali quindi andiamo a inibire e questo va poi attraverso l'arco riflesso attraverso i rami comunicanti bianchi e grigi a influenzare la catena del simpatico dunque partendo dal presupposto che ogni metamero quando viene irritato ad esempio da un meccanismo traumatico diciamo può andare a creare una situazione di tipo somatoviscerale e considerando che ogni segmento copre più centri osteopatici di vari organi quindi a un livello posso avere più organi innervati da quel livello però solitamente non vengono coinvolti tutti gli organi in modo uguale da un'irritazione ma di solito ce n'è uno che spicca più di altri che dà un sintomo più rilevante e quindi possiamo avere la persona che ha l'irritazione ai bronchi quello che ha la gastalgia eccetera io questa cosa qui me la sono spiegata proprio dal punto di vista della costituzione che in medicina cinese rileva come per costituzione quindi per genetica ci sia una serie di organi più debole rispetto ad altri Little John o altri hanno parlato di questa questione beh sì diciamo che lui lo associa a quel discorso del principio della path of least resistance cioè lui dice in una organizzazione pluri organica che si rifà un segmento possiamo avere per svariati motivi cronici malattie precostituite o intossicazioni alimentari o ti faccio l'esempio una persona aderita all'alcol ha una predisposizione alla malattia del fegato e magari in un trauma diciamo che afferisce nel tratto dorsale medio invece di avere ripercussioni su organi non so la milza al pancreas sviluppa comincia a sviluppare la malattia epatica ma perché quell'organo era già in una condizione tossica magari oppure una serie di lesioni che hanno indebolito hanno indebolito per esempio ci sono dei lavori ripetitivi che portano il corpo a sviluppare delle posture ripetitive che emettono in debolezza alcune aree del corpo arriva casualmente una lesione più importante o un trauma emotivo anche e quella persona si ammala quindi io penso che Little John l'abbia spiegato così su questo principio qua non so se aveva avuto rapporti penso di sì anche con i cinesi perché tra l'altro voi sapete che durante la fase di esplosione di Kirksville la linea ferroviaria fu costruita da migliaia di cinesi quindi in qualche modo erano venuti a contatto sicuramente con la medicina tradizionale cinese altre domande Paul scusa potresti fare un esempio di casi clinici sui quali si effettua il trattamento ritmico sì allora per esempio se abbiamo bisogno di stimolare un organo che a causa di una serie di lesioni di vecchia data e dopo i nostri trattamenti cominciamo per esempio a vedere che la ripresa funzionale non è ancora efficace possiamo appunto andare a creare una sorta di stimolazione dell'organo stesso e questa stimolazione viene effettuata con un trattamento ritmico nelle aree diciamo per esempio visceromotorie che sono in connessione centrale con l'organo stesso uno degli esempi che possiamo dare è l'esempio dell'intestino per esempio ma anche l'esempio dell'utero alcune situazioni di dismenorrea per esempio o amenorrea in cui vengono risolte le condizioni fisico-fisiologiche ma a causa della lunga latenza o anche di altri problemi che in quel momento lì non siamo in grado di valutare possiamo essere tenuti a stimolare queste strutture diciamo che molto spesso siamo abituati a inibire più che altro perché abbiamo a che fare però queste sono quelle piccole particolari non è che l'estropatia si inibisce sempre molte volte anche all'interno di un trattamento di un body adjustment puoi andare a inibire una funzione e magari a stimolare dopo alcuni minuti una funzione in un'area superiore in un'area inferiore per coordinare meglio un certo una certa funzione globale per esempio dell'escrezione o della assimilazione per esempio quindi non è che ci siano trattamenti così segmentali ma bisogna sempre contestualizzarli un po' nella condizione l'abbiamo visto molte volte da Campbell noi anche in clinica applicare alternare tra inibizione trattamento ritmico trattamento tonico anche trattamento tonico del vago proprio per andare a coordinare diciamo meglio la funzione che è una funzione equilibrata tra come sappiamo tra i sistemi simpatico e parasimpatico non so se ti ha risposto sì 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 grazie altre domande? Boh un po' se non ci sono altre domande io interromperai qua sì direi anch'io che insomma sono le 5.33 abbiamo fatto abbastanza l'aspetto dei centri è così se abbiamo concluso bene con i centri oscillatori oggi forse c'è ancora qualcosa da dire sui centri istopatici ma eventualmente penso che non sia neanche sbagliato invece di finire e chiudere un argomento la volta successiva una sorta di ripetizione aggiungendo qualcosa magari può essere d'aiuto non so assolutamente anche perché si ha tempo magari di riascoltarsi la lezione rivederci e quindi magari non esaurirla del tutto permette di riprendere magari dei concetti e approfondirli e approfondirli ulteriormente certo va bene bene allora chiudo la registrazione grazie Paul